... Entra che faccio? ... 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 integranista sulle maiuscole, soppre come parsemone, no, per i nomi propri, naturalmente. Non so, cioè per me è stato un titolo della storia dell'arte. Perché dà questa enfasi, questa botto c'è la chiesa, è stato un titolo. So che il teatro è un'arte sporca, sporca no perché c'è la creta, no, è sporca perché si appare di tante arti, no, scultura, musica, pittura, letteratura, bla 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 bla, sporca in questo senso, per cui tante volte si dice, ma il teatro può raggiungere l'arte ed è l'unica ragione, credo, credo che sia l'unica ragione per cui ho continuato, nonostante tutto, ma non perché io l'abbia raggiunta, ma per inseguirla. Cos'è che a Todi è meglio non fare? Se ne andrebbe mai da Todi? Che ne pensa del fatto che a Todi ci si conosce tutti? Le è mai capitato di vivere in una grande città? Cos'è uno scandalo per lei? Ti prego, rallenta la tua fuga e anche io ti inseguirò a più piano. Sfrego il viso e la pelle si sgretola sotto le mie dita. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.